L'associazione al secondo concorso, l'associazione culturale Gaeta, ha deciso nell'ambito del secondo concorso nazionale artistico letterale di quello Levi di proporre una rievocazione storica del Cristo si è formato a deboli. Abbiamo coinvolto il regista Gaetano Stella, che ne ha steso il copione, e il maestro Tullio Gaeta, che ovviamente si è occupato delle musiche e dei testi. Questo perché? Perché vogliamo sensibilizzare la lettura di questo testo, che riteniamo sia ancora oggi molto, ma molto attuale. Ritengo che Carlo Levi abbia colpito per quanto riguarda il nostro meridione. Ci sono stati cambiamenti, diciamo, da quando è stato scritto ad oggi? No, credo peggioramenti senza altro, esatto, peggioramenti sicuro. Regista di lunga esperienza, che lavora da anni qui nel mezzogiorno. Sì, io sono particolarmente contento di questa opportunità che mi viene data dall'associazione, perché, prima di tutto, perché alle spalle c'è un concorso di grandissimo valore e di grandissima qualità, e quindi mi inserisco in un contesto importante. Secondo, perché ho l'opportunità di rievocare Cristo si è fermato a deboli, un libro che ho sempre amato e letto. Una cosa che avevo già dentro da tempo. Quindi, poi, quando ho conosciuto Tullio Gaeta, che è un musicista, secondo me, di rara emozione, di capacità emotiva, e ho sentito le sue musiche, le parole di Levi le avevo già dentro, è stato, devo dire, tutto sommato abbastanza facile. Ho la sensazione che vedere in scena Carlo Levi, e vedere in scena quei contadini, vedere in scena quelle problematiche, si continuerà a pensare che Cristo forse davvero non è riuscito ad andare oltre a Ebole. La provincia di Salerno sostiene da tempo l'associazione Gaeta, che è una realtà importante anche per i giovani del territorio. È una realtà che in pochi anni è diventato un punto di riferimento sulla questione meridionale, innanzitutto, perché l'associazione si è fatta promotore di un evento unico in Italia, che partirà dal primo ottobre, quindi dalla ricorrenza annuale su un evento che credo che darà valore e spessore storico e culturale a tutti i mezzogiorno. E poi, devo dire, da due anni, solo due anni, si è avviato un concorso che ha già raggiunto livelli di partecipazione importanti, ma in modo particolare credo che il contenuto culturale del concorso è fondamentale. Fatto in una città in cui i brand, i nomi di Eboli, ultimamente anche risulta essere molto, diciamo, importante nell'ambito del marketing e della comunicazione, se oggi c'è un brand debole è grazie anche a Carlo Levi, al Cristo si è fermato a Eboli. A questo si è voluto dare una valenza storica, attraverso una rievocazione importante, significativa, quest'anno ci sarà, diciamo, un avvio di un percorso di rievocazione, sperando che diventerà questa stessa un evento nell'evento.